Si è risolta nel giro di un'ora la situazione relativa a ritardo nei pagamenti degli stipendi alle lavoratrici delle menze scolastiche del Comune. Per ora è risolto, nel senso che l'azienda ha dichiarato di aver fatto i pagamenti arretrati. Noi ovviamente abbiamo sollevato un problema anche più generale di gestione del rapporto di lavoro, nel senso che vogliamo che comunque ci sia una puntualità nei pagamenti, perché come abbiamo ricordato in prefettura parliamo comunque di salari medio-bassi e quindi a ritardo anche di qualche giorno comporta problemi. Noi speriamo, anzi abbiamo chiesto e c'è stato un impegno davanti al prefetto, da parte dell'azienda, chiediamo che il pagamento sia puntuale entro il 15 di tutti i salari. Il problema si risolve innanzitutto con una fatturazione cosiddetta disgiunta, cioè noi adesso fattureremo, credo faremo in tempo sicuramente entro gennaio 2016, attraverso una fatturazione, il 70% di quello che è alla vivenda e il 30% alla PAP. Questo sta bene, poi nel tavolo devo dire che il prefetto è stato risolutore nel fare da buon arbitro dalle parti, quindi la PAP non è una promessa, ha dichiarato che entro la prima di Natale pagherà tutte le aspettanze che ci sono da pagare alle cuoche e quindi insomma io credo che il problema l'abbiamo risolto. Presente tra gli altri anche il presidente della provincia che ha parlato della situazione anomala negli appalti tra cooperative e enti pubblici. Ma questo è il problema che hanno tutti gli enti locali, dalla provincia a tutti i comuni, e cioè si arriva alla fine dell'anno, ci sono problemi di cassa e quindi i pagamenti avvengono sempre con un po' di ritardo e ovviamente a soffrire di più sono i dipendenti di quelle cooperative che hanno più difficoltà da trovare accesso alle anticipazioni bancarie. Noi cerchiamo di sopperire a questo problema anticipando quei pagamenti rispetto ad altri perché in realtà gli enti locali devono seguire ovviamente una cronologia dei pagamenti. Per casi di situazioni di urgenza eccezionali questo, siccome per me quei dipendenti sono uguali ai dipendenti degli enti pubblici, diciamo c'è un occhio di riguardo in più.